La voglia di tornare a macinare i punti del Biceglie dopo lo stop di Reggio Calabria, la caccia al primo risultato utile in casa del Bari nel Mirino, oppure la prima gioia della gestione Beppe Scienza al Monopoli e la prima vittoria in questo campionato di 16 della Virtus Francavilla. Auspici diversi ma unico comune denominatore per le quattro pugliesi del girone centro-meridionale, far bene in questo weekend calcistico che durerà un giorno in più alla luce dell'impegno in posticipo del Bari. Ha superato giovedì scorso il turno in Coppa Italia di Lega Pro e ora punta a ritrovare il sorriso anche in campionato il Biceglie dopo il precedente negativo del Granillo. La squadra di Rodolfo Vanolis la vedrà domani a partire dalle ore 17.30 al Ventura contro un Potenza che si inquida un ha conosciuto mezze misure, due vittorie e una sconfitta. Quale a Lucana non è tra le squadre da battere ma è candidata comunque ad un ruolo di rilievo in questo campionato molto buono, fatta eccezione per la recente parentesi calabrese, anche l'impatto del Biceglie con la nuova stagione. Non quello del Monopoli invece, di sicuro inferiore alle aspettative in termini di risultati e punti. Non è per nulla agevole tra l'altro la missione riscatto dei Biancoverdi, che alle 15 saranno di scena libero liberati contro la Ternana, l'unica compagine del raggruppamento a punteggio pieno dopo tre giornate. Non ha mai vinto sin qui la Virtus Francavilla, che alla stessa ora giocherà sul campo della Paganese. Sarà una domenica inusuale quella che vivranno i tesserati del Bari. La sfida interna contro la Regine infatti è programmata in posticipo per lunedì sera a partire dalle 20.45 sul Prato del San Nicola. In campo regolarmente domani. Infine il Picerno, la compagine Lucana, la sorpresa più piacevole di questo primo scorcio di stagione, con sette punti ottenuti su nuovi a disposizione, ospiterà le 17.30 al Viviani di Potenza Lavellino nel derby tra matricole.